Sono Pazzox e ben ritrovati in questo nuovissimo video Sono pronto, manca poco per l'ultimo teaser Mancano 5 minuti, proprio come ieri, l'altro ieri e vabbè Appena sono le 16 in punto io clicco subito il tasto aggiorna Istantaneo Ok, 16 in punto ragazzi Eeeeeee Non c'è niente, aspettiamo forse un altro caricamento Eeeeeee, non c'è niente Ricarico Eeeeeee Non c'è niente ancora Hello? Ricarico la pagina Ricarico la pagina Eccolo qua Una banana? Esplori un mondo, sfida il destino Anerdi, segreti di avventura, vi aspetta la stagione 8 inizia domani Una banana? Il vero teaser, è il vero teaser ragazzi Perché, perché è una banana? Questo ragazzi è il teschio completo Con un vulcano, ovviamente Una banana Una banana Ripeto, quella è una Banana Abbiamo una tigre cazzutissima Incazzato drago Quello che è E poi una banana Cosa sto sbagliando? Siamo sicuri che è il vero leak Siamo sicuri che è la vera immagine Epic Adesso sono molto confuso Credo che il ruggine in questo momento sia il personaggio più normale Di Fortnite In questo momento Che dire ragazzi Noi come sempre Ci vediamo ovviamente Domani Con la reaction E su come completare La settimana numero 1 Che dire Noi come sempre Ci vediamo con Ficcissimo e carnissimo He he E su come completare Grazie.